E ce l'hanno fatto togliere, il motivo non lo sappiamo perché, stiamo attraversando un veridio non bello a livello commerciale, siamo in crisi e ci siamo inventati questa via dell'amore. Nel viaggio chiamorato ci sono 40 negozi di cui 10 chiusi, non vogliamo chiudere ancora e ci siamo inventati questo qui. Invece non lo sappiamo perché, nessuno ha capito perché ce l'hanno invitati. Io dico all'amministrazione comunale, ai vigili urbani e soprattutto al comandante, non chiediamo niente, chiediamo soltanto se ci danno una mano e poterci lavorare. Ci inventiamo il lavoro, a Salerno ci vanno per la luce artista, noi ci siamo vendate la via dell'amore. Non facciamo male a nessuno, non chiediamo niente, non vogliamo far polemiche, chiediamo solo una cosa, che se l'amministrazione invece di contrastarci si può schierare a fianco nostro e anche i vigili urbani. Non trovare cavillo. La burocrazia non voglio che vince sull'amore. Facciamo vincere l'amore.